E nel sogno la baciai, a letto ritornai, piangendo la sognai, sembrava un angelo. Mi sdiceva sul suo corpo, mi donava la sua bocca, mi diceva sul suo corpo, e nel sogno la baciai. Alzami questo, a cielo, Enzo! Ma vogliamo fare una passia? Tutti in piedi, in piedi! E l'orchestra! E chi è? Alvaro Vitali! Enzo! Grazie! Enzo, Enzo! Grazie! Ma è il bello della diretta, insomma, è il bello della diretta. Ci sono divertiti, no? Anche perché, insomma, i microfoni vanno e vengono. Perché Enzo fa tutto, tranne che i tributi. Sì, perché ho fatto la domanda all'ufficio tributi e non me l'hanno accettata. Ma dai, Enzo! No! No! No!